Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Game Play It. Oggi siamo su Yacht Mechanic Simulator, un gioco che si rifà ovviamente, come dice il titolo, a un car mechanic simulator ma con queste barche di lusso. Il gioco attualmente costa 9,99 scontato ma il suo prezzo originale è 12,99 se non sbaglio. Il gioco attualmente ha delle recensioni molto negative, per lo più negative, complice anche un tutorial non schippabile ma lo andiamo a vedere, lo proviamo insieme e ringrazio anche la Playway per avermi preso in simpatia e permettermi di provare tutti questi titoli. Ovviamente questi sono giochi sempre orientati a rilassare. Qua abbiamo lo Yacht da pulire e sistemare, andremo a sistemare anche delle parti minime e meccaniche. Dobbiamo iniziare. La cosa che mi fa un po' storciare il naso è il fatto che ci muoviamo come fossimo un fantasma e questo è un po' un peccato. Dobbiamo accedere qui, premendo il tasto V vedete che compaiono tutti i punti critici. Dalle parti da sostituire in rosso alle parti invece di rifiuti. Selezioniamo la mano e con la mano possiamo andare a prendere la spazzatura e anche le macchie. In questo caso mi ha già appreso questo perché ho cliccato. Le macchie invece le puliamo con il pennello. Quindi il pennello si tratta di trascinare su e giù questa cosa, è una cosa molto meno immediata di quanto abbiamo già visto in House Flipper. In questo caso invece ci fa modificare, sostituire una delle eliche del motore. Vedete che questa c'è e questa manca. Quindi dobbiamo cliccare e con il tasto destro del mouse fare montare, ci fa montare la elica mancante. Ma non finisce qui perché una volta accettato dobbiamo andare a prendere gli strumenti giusti per fissarla. Quindi vedete qua la chiave al caricetto la fissiamo, dobbiamo prendere, ce lo indica qui, il cacciavite, avvitiamo anche in questo caso, tutto molto molto astratto, e la chiave inglese per fissare l'ultima parte dell'elica e l'elica è sostituita. Ora dobbiamo andare, non so dove adesso, dovremmo andare qui nel vano motore e bisogna, questo è un pochino più complicato tra virgolette, si vede il motore della nave, dovrebbe averne due, no forse solo uno, solo uno, però ha la batteria. La batteria dobbiamo intervenire noi facendo con la mano, focalizzarci sulla batteria e poi andare a, adesso non ricordo con cosa, con la chiave al caricetto, svitiamo i due poli e con i poli poi andiamo a scegliere rimuovi e rimuoviamo e li abbiamo rimossi. In questo caso dobbiamo tornare indietro, prendere la batteria e rimuovere la batteria, aggiungere e montare la batteria che è al 100% e non al 30, vale 100 dollari, il conto di 30 ne valeva l'altro. Accettiamo e poi andiamo a rimontare i cavi, quindi selezioniamo con la mano i cavi, che due palle, no 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 no, i cavi della batteria, accettare, no, uscire, voglio montare questi, quindi vado su montare, monto i cavi e poi vado a rifissarli, ovviamente devo selezionare la chiave al caricetto, poi ci prenderemo la mano e useremo lo strumento giusto, al momento giusto. Ora conosciamo l'ABC, come dice anche il tutorial, e possiamo andare ad esplorare il resto della barca, quindi possiamo parire il portellone qui e andare sotto e prendere, pulire altre cose che sono state lasciate in giro, possiamo andare ad apparire in altre stanze, fate bene, per gli appassionati di barca è senz'altro una bella cosa. Col pennello puliamo queste cose che io spero sia ruggine e non altro, dato che ci troviamo nel bagno, non dobbiamo muoverci troppo perché sennò, ok, e di qua dovrebbe esserci la doccia, ah qua, aspetta, putto via anche questo, la doccia la dobbiamo, se non sbaglio, sostituire, quindi facciamo, ah no, non me lo dà ancora, dobbiamo pulire ancora i rifiuti che troviamo in giro, col tasto V vediamo dove sono le macchie, residue in giro, e quando ho ucciso qualcuno, allora, ok, tolta questa, via la macchia, via il dolore, anche qua c'è una bella macchia, quindi selezioniamo questo, e il gioco sicuramente avrà delle patch, però per gli appassionati di barca, secondo me è fatta molto bene questa barca qua, allora vediamo un po' se possiamo fare qualcos'altro, tipo pulire questa macchia, qui mi deseleziono ogni volta il pennello, devo andare a riprenderlo, una delle parti più interessanti, è poi la pulizia della barca, la pulizia finale, quindi andiamo a pulire, a sostituire questa parte, quindi la selezioniamo, facciamo rimuovere, la rimuoviamo e ne montiamo un'altra, senza viti, senza niente, questa la accettiamo così com'è e finisce qui, dobbiamo andare a sostituire anche forse una delle parti esterne, perché premendo V vedete che ci sono delle parti rosse, che sono dei salvagenti o dei pesi, paraurti, paraurti, giusto per non, lo cambiamo, e ne montiamo un altro, montiamo un salvagente, e salvagente un paraurti nuovo, ora manca la pulizia dello scafo, quindi prendiamo questa che è tradotta un po' così, pistola a pressione, e andiamo a pulire, questa dà molta soddisfazione, non a caso giochi di Power Washing Simulator sono sempre apprezzatissimi dall'utenza, perché appunto è abbastanza rilassante il pulire, vedere tutte le alghe secche andare via dallo scafo di questo yoke. Il gioco senz'altro poi ci mostrerà Altamon, si aprirà e ci lasciarà più spazio, poi ci sbloccherà, a varie veloce daremo il computer con cui andare a fare altri lavori. Non sarà il gioco della vita, ma per gli amanti di quei giochi attività, simulatori di vita che ci fanno passare un po' il tempo, come lui era anche House Flipper, perché comunque la soddisfazione ce la dà. Sicuramente quelle recensioni negative diventeranno magari positive in futuro, quando il gioco avrà delle patch, delle migliorie, insomma, e a dire la verità poi ne stanno uscendo anche tanti, simulatori anche assurdi, quindi c'è questa riflessione da fare che si sta simulando un po' tutto, ma anche il simulatore di taglia erba, insomma, però è sempre, una volta magari ci si rilassava con qualcosa di, non so, il Tetris ad esempio, o il Sudoku, ora ci si rilassa pulendo barche e arredando case, pulendo case. Tra l'altro, aneddoto, mi sono chiesto cosa stessi facendo della mia vita quando io giocai House Flipper in VR e mi trovai sdraiato per terra a pulire delle macchie da un pavimento virtuale, ho detto, cavoli, sarebbe meglio che io lo facessi prima in quello vero, no? Comunque, ci dà una percentuale e avremo finito, adesso penso. se mi fa da fastidio. Tra l'altro, quando voi completerete una barca, potrete ottenere un bonus al punteggio se lo andrete a provare. Molto bene, le riparazioni sono effettuate, prendiamo il computer e completare l'ordine, perfetto, noi adesso dovremmo aver finito. quindi, basta, chiudiamo questo come da fastidio e andiamo indietro. Ok, siamo qua, abbiamo tutta questa roba qui che potrei buttarla via, perché qua ci sono tutte le cose che abbiamo recuperato da nostra barca, ma vabbè, andiamo al computer, sistemeremo dopo. Il computer è qua nell'ufficetto e qua possiamo andare a completare. Questo, ok, ti fa vedere che andando nella posta possiamo testare le barche nella baia, ma al momento non c'è bisogno, otteniamo un bonus di pag, vedete, fa il test e termina. In questo caso terminiamo e il gioco tecnicamente ci dice ora hai imparato le basi, ora vai avanti per i fatti tuoi. Quindi, se andiamo qui, possiamo vedere la banca, abbiamo sbloccato delle imbarcazioni, tra l'altro. Possiamo chiedere app della banca, fase 1, fase 2, costo della prossima, fase 25 mila, no. Usuraio, possiamo chiedere i soldi, vabbè, e salvare la partita. La salviamo, posta. Abbiamo un contratto per 5200, facciamo questo qui. Nell'ultimo giorno ho lasciato che i miei figli più piccoli giocassero con la mia barca e il più grande avrebbe dovuto sorvegliarli. Comunque il mio Sundancer 240 ha bisogno di riparazioni. Accettiamo. Accetto, 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 l'accetto. Vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare. Preparazione della barca in corso. Ok. E dobbiamo andare a sostituire un po' di parti. Tra l'altro abbiamo ancora questi, che sono... Ok. Con questa va, andiamo a sistemare queste parti qua. Iniziamo magari dandogli una bella pistolata a pressione. Oddio, l'ho mollato lì. Pistolata a pressione. Ma l'hanno ridotto malissimo sto bucoso. Vediamo. Parti critiche. Dobbiamo sostituire, no? Sostituire le parti. Vabbè, dai, usiamo il tasto V che vediamo che cosa c'è da sostituire. Allora, andiamo con la mano. Allora, dobbiamo sostituire questo divanetto qui. Faccio rimuovere e poi montare. Ma non ce l'abbiamo. Se dire il capitano. E gli rimonto il suo, ma io dovrei... Dovrei... Anche perché il gioco non me l'ha insegnato. Vediamo se posso... Decorazione, corrispondenza... No, non mi fa fare niente ancora. Quindi probabilmente è una di quelle cose che non posso andare ancora a fare, uscire. Vabbè, vediamo che cosa c'è da fare. Ecco, le parti critiche sono queste. Questo giubbotto, montare. Il giubbotto, ma non... Non ce l'ho. Mannaggia. Allora, uscire. Estintore. Se dire il capitano, timone... No, infatti devo sostituire le parti, ma... Non me le fa comprare. Negozio. Decorazione. Motore. Pannello di controllo. Varie. No, non c'è assolutamente nulla. Vabbè, iniziamo smontando questa. Quindi, il negozio... Ah, me lo fa comprare qui, ok. Sedile del capitano. Se io comprassi questo... Ah, me lo sostituisce già in automatico. Ah, ok, ok, ok. Sedile del capitano. Io lo monto. Accetto. Poi, che altro c'è da cambiare? C'è questo. Tappeto qua. Ma no, non voglio uscire. Fammi vedere cosa devo cambiare. Questo. Questo qui. Negozio. Divano rosso. Ok. Accetta. Non mi accetti. Mi posso. Soldi ne ho. Che nervoso. Ah, devo smontarlo. Che è giustamente. Cacciavite. Monta. Monta. E poi cosa manca? Dai muovi. Negozio. Posso notarne un'altra? Ok. Riavvitiamo. Col cacciavite. Potete dire, usa la cosa. Ok. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Poi cosa manca? Manca questa parte qua. Il tavolino. No. Manca la moquette. Che cos'è? Che nervoso. Mamma mia ragazzi. Il tavolino. O una moquette. Filtro olio. Pavimento. Pavimento. Ok. Ok. No. No. Non questo. Questo. Qui. No. Non riesco a capire. Vabbè. Vediamo un po'. Estintore. Estintore. No. Cliccando col destro mi butta fuori. Mi butta proprio fuori. Estintore. Ah. Devo cliccarlo. Ok. Vabbè. Rimuovere. Montare. Non ce l'ho. Ah sì. Ce l'ho. Sostituire. Nuovo. Ok. Fatto anche quello. Deposito per carburante. Timone. Cambiamo il timone. Gioco questo in qui. Timone è questo. Rimuovere. E acquistare. Montare. Il nuovo timone. Nuovo timone. Accetto. Va bene. Poi. Dovremmo avere accesso al vano motore. Che credo sia. Rimuovere. Ah no. Questa è una porta. Montare. Porta della cabina nera. No. Ok. No. Vorrei apparirla però. Scusami se. Ti faccio cliccare qui. Ok. Senza smontarla. Ecco. No. Qua non credo ci sia niente. Dobbiamo trovare dove va il motore. Il motore credo sia. Questo. Mi fa innervosire questa cosa. Clicco qui. Faccio negozio. E compro un salvagente. Va bene dai. Prendi che salvagente. Il. Deposito carburante. No. Allora. Vediamo un po'. Dov'è il motore? Dove sarà il motore? Allora il motore è qua. Dice filtro dell'olio. Ma non me lo fa fare. Devo smontare l'elica prima. E muovi. Cacciavite. Smontare l'elica. No. Chiave inglese. Chiave inglese. Proviamo ma non sono sicuro che sia quella giusta. Cacciavite. E poi chiave carichetto. Ok. Via l'elica. E poi? No. Direi che non era questa. Allora. Ricominciamo al contrario. Chiave clicchetto. Cacciavite. E poi chiave inglese. Si sarà da vedere. Tra un po'. Con qualche peggio. Secondo me. Perché non è ancora proprio perfetto il gioco. Si. E mi fa anche abbastanza nervosire. Perché clicchi sul motore. Ma non ti fa fare niente. Vabbè. Vediamo se c'è dell'alto. Vediamo. Col tasto V. Si. Il tasto V in effetti avrei dovuto usarlo sin dall'inizio. Premendolo più volte. Ok. Ok. Vediamo. C'è qualcosa qua sotto. Pavimento. Negozio. Pavimento in legno. Ok. Cambiato. Fa cagare. Mi riporto in ufficio. Vediamo un po'. È il pavimento che devo cambiare è questo. Ma non capisco. Pavimento in legno. E qua me lo fa. E mi sta bene. Ah no. Devo smontare il tavolino. Prima. Rimuove. Scusami. Negozio. Cambio il tavolino. Ok. Accetto. No. Devo smontarlo. Mamma mia. Chiave inglese. No. Va andare la chiave al cricchetto come minimo. Una. Due. È un po'. Macchinoso devo dire. Rimuovi. Ok. Rimosso il tavolino adesso. Puoi per cortesia farmi rimuovere. Uscire. Ma non mi puoi lasciare qua senza uscire. Eh. Io smonto il tavolo ma. Negozio. Vabbè cambiamo il tavolino. Cazzo devo dire. Poi. Tavolino. Plastica bianco. Vabbè. Quello che è. No. Chiave al cricchetto. Fa veramente. Il nervosire. Devo dire. Ok. Adesso. Adesso l'ha preso. Chiave al cricchetto. Ok. 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 E ok. Adesso. Mi fa cambiare sto pavimento qua. Però mi dice. C'è il tavolo. Non lo puoi cambiare. E allora vai un po'. Cioè. Cioè. Se io clicco sul pavimento. C'è il pavimento. C'è il pavimento. E no. Non riesco proprio a capire. Perché poi. Altro. Mi dà qua sotto. Dove esserci uno scompartimento col motore. però non si accedere da lì. Da dove si accederà. Sotto qua. Sedile sinistro. Vai muovere. Vai muovere. Con cosa? Chiave al cricchetto. No. Cacciavite. Vai muovere. No. Non. No. Evidentemente. No. Perché non c'è neanche modo di uscire. Cioè. Non posso scegliere niente. Non mi lascia scampo indietro. Non esce da qui. Non esce da qui. Gli cambio il divano ma. Non sono un po' perplesso. Dico la realtà. Ok. Non so dove. Dove sbatterla testa. Onestamente. Non è proprio. L'esempio di immediatezza. Allora. Qua. La cabina. Ma la cabina. Non ha senso andarci. Perché qua dentro. Non c'è l'accesso al vano motore. C'è il bagno. È bellina però. La barca in sé. Però non riesco a capire come accedere. Qua sotto forse. No. Parti critiche. Riempire le parti. E non estamente. Non estamente. Vediamo di nuovo. L'estintore qua sotto. Ma non mi fa smontare niente. Di niente. Di niente. Rimuovi il pavimento. Montare. Rimuovi. Rimuovo il pavimento. Ma non c'è niente. Quindi rimonto il pavimento. No. Non lo so. Sono un po' perplesso. Dire la verità. Perché non riesco a accedere sotto. E non riesco neanche a cambiare questo. E mi dice che c'è. Faccio un ultimo tentativo. Allora. Rimuovo il tavolino. Vedete. Io scelgo. Rimuovi il tavolino. Uso la chiave a carichetto. E ok. E mi sta bene. Rimuovo il tavolino. Rimuovo il tavolino. Perfetto. Il tavolo è rimosso. Faccio rimuovi. E rimuovo. Ora. Senza il tavolino. Vedete. Non posso fare niente. Non posso fare niente. Cioè. A meno che non abbia un altro strumento. Con cui smontare qualcosa. Pennello. No. No. Non c'è niente. Indietro. Indietro. Non c'è niente. Mano. Niente. Posso solo rimontare il tavolino. Niente. Sono davvero molto molto perplesso. Io credo che questo gioco. Mi piaceva farvelo vedere. Ma secondo me. Ha bisogno di essere. Un pochino rivisto. Vorrei concentrarmi anche sul fatto che. Magari non lo so giocare. E così. Però. Vorrei chiedere anche a voi. Magari di farmi sapere. Se lo avete acquistato. Ne siete rimasti contenti. Delusi. Cosa sto sbagliando soprattutto. Perché. Secondo me. Ah. Ecco. Perché sono un po' perplesso da sta cosa. Perché non me lo facevo vedere subito. Cioè. Dovevo smontare tutta sta roba qui. Vabbè. Allora. Questo cambia tutto. Cambiamo. E opirla io. Qua faccio monta. E anche se continua a rimanere un po'. Un po' macchinoso. Quindi. Io clicco. Faccio negozio. Compro un filtro dell'olio motore. Compro il filtro. Lo monto. Credo che sia a posto. Poi altro da cambiare. C'era forse una batteria. Lì. Ok. Negozio. Tanica di carburante. Olio motore. Buio. Compro. Tanica di carburante. Olio motore. Compro l'olio motore. Estintore e pavimento. Allora. Vediamo un po'. Andiamo su. E vediamo se c'è ancora qualcosa. Ok. Estintore. Questo. Ok. Questo qui lo dobbiamo comprare. Quindi. Seleziono. Montare. No. No. Uscire. Negozio. Estintore. Accetto. E va bene. Rimpiare parti. Cinque parti critiche. Ok. Niente. Io vorrei adesso montare e rimontare tutto. Quindi come si rimonta tutto? Premendo qui. E rimonto tutto. Mi manca il pavimento però. Il pavimento io non riesco a montarlo. Perché c'è quello. Quindi io il pavimento lo seleziono. Ma continua a dirmi che c'è questo tavolo di merda. Pistola a pressione. Me lo fai pulire? No. Continua a dirmi che c'è il tavolo. Non gli piace. Assolutamente non gli piace. Non possiamo completarlo così adesso. Scusate. Se io. Indietro. Vado. E' completo. Ma. Non gliel'ho fatto tutto ma. Cavoli qua. Ma quante sono ste. Ste barche qua da fare? Vabbè. Se io vado qui. Terminare l'ordine. No. Non. No. No. Devo. Devo proprio tornare su. No. Non voglio chiudere il gioco. Ma non. Non voglio neanche chiudere il gioco. Voglio uscire da questo stramane detto computer. Ma non mi fa uscire. Farvo la partita. Chiudo il gioco. No. Chiudo il gioco in una traduzione fatta un po' così. Vabbè. Adesso provo a cambiare il pavimento. Ok. Non so come ma sono riuscito a cambiare il pavimento. Cliccando forse da un'altra parte. In modo assolutamente forse nato. Montiamo sto coso. E adesso voglio rimontare. No. Non voglio rimuoverlo. Voglio montare il tavolino. Ok. Sì. Non ho ben capito come si faccia. Però. Dovrei aversela fatta. Allora. Chiave e cricchetto. Ok. Dovremmo aver completato tutto adesso. Ok. No. Non me l'ha dato completato lo stesso. Cioè. È quello. Vabbè. Ragazzi. Io onestamente ci rinuncio. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Gioco da rivedere. Assolutamente. Non mi capita molto spesso di dirlo. Di dire la verità. Però. Non. No. Assolutamente no. Al momento no. Ma secondo me col tempo potrebbe diventare un bel gioco. Attualmente. Credo che debbano tenere conto delle recensioni negative. Che sono piuttosto giustificate al momento. È un gioco che ha un buon potenziale. Per essere un buon passatempo. Sarà da vedere. Per intanto. Spero vi abbia fatto piacere vederlo qua. Portato sul canale. E alla prossima. Ciao ciao.